Stella, una cosa come questa è davvero grave. È la verità. Mi scusi, che cosa è successo qui? Un omicidio, credo. Sua figlia è in arresto per un grave crimine. Deve farci controllare la casa. Chi è la vittima? Signorina Sandella. A me lui piaceva. Niente è così difficile come essere genitori. Tu hai una parte oscura. La provi a nascondere, ma io la posso vedere. Tutto ok, tesoro? Vieni. È terribile non poter proteggere la propria figlia. La stella significa tutto per me. Tu le credi oppure no? Sì che le credo, ma certo. Mi sentite? È lei che ha più raffreddato, ti rendi conto. Anche la voglia di Robb. Grazie a tutti.